Allora raga. Oggi si fa lezione. Ma io non voglio studiare cazzo. Zitto porco 2. Non vedi che il prof ha la passione per i tortellini. Bene raga, aspe. Chi diabolo ha detto la parolaccia con la c? Jeff tu. Ma prof io non ho detto nulla. Si cretino rimbecillito onoressico che non sei altro. Lo hai detto. Ammettilo. Zitto maschi di merda che mi stai anche sul cazzo malevati dalle palle. Non vedi che il prof sta spiegando? Merdoso. E tu sei frugio. Ma porca mela. Io chiamo il 118. ML 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 va flelele. Toby. Tu mangi. Perché cazzo stai a mangiare? Ho fame maschi. ML ML ML. Prof, posso andare in bagno? Si vai pure. Tu sei quello che non dice le parole ma che mangiare sempre e poi devi andare a cagare. Allora 1 più 1? 91? Jack non fa 91 razza di stupido. Avanti un altro. Due prof. Due prof? Che cagano. Zitta razza di troia. Jane vai in castigo per aver detto quella cosa. Nooooooooooo. Nooooooo.